Ci troviamo davanti all'ospedale di Sciacca, oggi raccontiamo una pagina di Bella Sanità. Siamo con Matteo Montoleone di Castelvetrano che ha appena compiuto 18 anni e con la mamma Enza Titone. Matteo a ottobre dello scorso anno ha avuto un incidente stradale a Castelvetrano, era con un motoglino che si è scontrato con un'auto. E' rimasto ricoverato per le conseguenze riportate presso il trauma center di Villa Sofia a Palermo per un mese. E poi ha iniziato l'attività riabilitativa presso gli istituti Maugeri che si trovano all'interno dell'ospedale di Sciacca. E in due mesi è riuscito ad ottenere dei risultati che erano stati preventivati in circa dieci mesi. Però la situazione dopo l'incidente era particolarmente grave. Quindi la signora Titone quando ci ha contattato perché aveva piacere anche di ringraziare il personale della Maugeri e di far sapere della qualità del servizio che ha ricevuto a Sciacca, ci ha anche detto che ha temuto anche per la vita del figlio. Allora ripartiamo da quel brutto incidente, da quella sera e poi al trasferimento a Palermo. Sì, Matteo è stato ricoverato con codice rosso, un politrauma abbastanza serio a Castelvetrano. Di lì è stato subito trasferito al trauma center di Villa Sofia con lo sfondamento toracico, sfondamento del volto e le relative conseguenze. È stato operato, ci sono stati i primi tre giorni e tre notti, le 72 ore in cui è stato poi sciolto il pericolo di vita e quindi di lì poi sono partite tutte le cure del caso. Dopo un mese l'hanno trasferito qui al centro Maugeri di Sciacca. Lui è arrivato in uno stato di semicoscienza, una emiparesi laterale, una disfaggia, non parlava, non declutiva, non c'era. Poi loro se ne sono presi cura come se fosse loro di figlio. Sono stati tutti gentilissimi, tutti grandi professionisti, eccellenti. La De Paolo, che è la coordinatrice delle fisioterapiste, l'ha trattato come se fosse il suo di figlio. E questo è il risultato che è praticamente al 90%. Sono rimaste delle terapie che dovremo continuare a fare, che dovrà continuare a lottare per riprendersi totalmente alla sua vita. Matteo, cos'è cambiato per te con questi due mesi a Sciacca? Anche tu, nel momento in cui ti sei reso conto delle conseguenze che avevi subito, anche tu eri molto preoccupato, ma a Sciacca possiamo dire che sei rinato. Sì, esatto. Ho fatto un percorso di riabilitativo, braccio e gamba. Poi ho lavorato sempre sul braccio e la gamba, tipo pesetti, un po' di mobilizzazione. Mobilizzazione e tanta logopedia. Esatto. Anche parlare, non ci ho parlato prima. E ora sì, poco a poco riesco. Ebbene, vuoi ringraziare anche tu naturalmente chi ti ha preso in cura Sciacca? Tutti. Tutti, personalmente dico. I infermieri, i os, le signore delle pulizie, tutti gentilissimi. Cioè, il dottore Di Cicco, il dottore Castronova hanno un'equip veramente di eccellenza. Ed è giusto che si sappia, perché spesso non viene... Ecco, lei quando ci ha contattato vuole dirci proprio questo, che purtroppo nella sanità spesso fanno notizia gli episodi di mala sanità, quelli negativi. Invece questa volta lei voleva sottolineare proprio la qualità del servizio. Sì, la positività. Questo è il risultato vivente, tangibile, obiettivo e oggettivo. E ce ne sono tanti altri che magari non vengono pubblicizzati o che non si vengono a sapere. Io non sapevo nemmeno l'esistenza di questa struttura. Cioè, chi non ha a che fare con questo mondo è completamente all'oscuro. Le possibilità ci sono e sono reali. E ce le abbiamo qui, in questi piccoli centri del Sud Italia, che spesso e volentieri siamo gli ultimi della catena. Invece no, abbiamo centri di eccellenza. Ed è meraviglioso poterlo dire, insomma. Grazie. Matteo, adesso hai ripreso la tua attività normalmente. Esatto. E scuola, quanto prima? Scuola, presso un desprosti, un vento, senza dispensazione, vacanze di carnevale. E niente. Le serate, anche le serate. Tipo stasera, fra una piva. Il motorino, fra un po'. Esatto, dal mercanico.